È una scheda elettorale di colore rosso rubino quella che sabato 8 e domenica 9 giugno sarà a disposizione degli elettori della circoscrizione dell'Italia centrale in occasione della chiamata alle urne per le elezioni europee 2024. Nell'occasione l'Italia eleggerà 76 membri del Parlamento europeo, 15 quelli che saranno eletti dalla circoscrizione dell'Italia centrale alla quale appartengono i cittadini della provincia di Pesaro Urbino. Elettori pesaresi che potranno votare solo i candidati della propria circoscrizione geografica che prevede Marche, Umbria, Lazio e Toscana. Circoscrizione in cui sono presenti 12 partiti a liste per un totale di 180 candidati. Si vota tracciando una X sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. Se si traccia un segno su più contrassegni il voto risulta nullo. Ogni elettore può esprimere al massimo tre voti di preferenza per candidati che appartengono alla lista prescelta. Nelle elezioni europee infatti non è possibile il voto disgiunto. I candidati indicati nelle preferenze devono appartenere alla lista scelta. Se si decide di esprimere più di una preferenza devono essere indicati candidati di sesso diverso. Ad esempio se si esprimono due preferenze devono essere un uomo e una donna. Se si esprimono tre preferenze devono essere due donne e un uomo o viceversa. In caso di mancato rispetto delle preferenze di genere verranno annullate le preferenze successive alla prima. I seggi saranno aperti dalle ore 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Lo spoglio dei voti comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi delle 23 di domenica.